Ciao ragazzi, in questo video concludiamo il discorso sul valore assoluto che abbiamo cominciato nei video precedenti della playlist, dando finalmente un'occhiata a come si risolvono le disequazioni con valori assoluti. Come vedremo, la strategia risolutiva è molto simile a quella che abbiamo già visto per le equazioni con valore assoluto, e quindi, senza perdere altro tempo, diamo subito un'occhiata ad un esempio. Supponiamo quindi che ci venga chiesto di risolvere la disequazione, valore assoluto di 2x meno 3, maggiore di x più 6. Per risolvere una disequazione come questa, la prima cosa da fare, un po' come abbiamo già visto per le equazioni con valore assoluto, è, passatemi il termine, far sparire il valore assoluto, e dobbiamo quindi distinguere i due casi. Se 2x meno 3, ovvero l'argomento del valore assoluto, è una quantità maggiore o uguale di 0, allora il valore assoluto non gli fa niente e la disequazione da risolvere è 2x meno 3, maggiore di x più 6. Quando invece 2x meno 3 è minore di 0, allora il valore assoluto di 2x meno 3 diventa 2x meno 3 cambiato di segno, ovvero meno 2x più 3, e quindi la disequazione da risolvere diventa questa qui. A questo punto, come vedete, abbiamo ottenuto due sistemi di disequazioni di primo grado, e quindi non ci resta che risolverli separatamente e unirne poi le soluzioni. Per quanto riguarda il primo sistema, da 2x meno 3 maggiore o uguale di 0, si conclude che x deve essere maggiore o uguale di 3 mezzi, mentre da 2x meno 3 maggiore di x più 6, si conclude che x deve essere maggiore di 9. E come vedete, le due condizioni sono verificate contemporaneamente proprio quando x è maggiore di 9, e quindi x maggiore di 9 è la soluzione del primo sistema. Similmente, per quanto riguarda il secondo sistema, da 2x meno 3 minore di 0, si conclude che x deve essere minore di 3 mezzi, mentre dalla seconda disequazione si conclude che x deve essere minore di meno 1, e queste due condizioni sono verificate contemporaneamente quando x è minore di meno 1, e dunque x minore di meno 1 è la soluzione del secondo sistema. Non ci resta quindi che unire le soluzioni dei due sistemi per concludere che la soluzione della nostra disequazione sarà data dalle x appartenenti ai reali, tali che x è minore di meno 1 oppure x è maggiore di 9, cioè vedete l'unione delle soluzioni dei nostri due sistemi. Per convincervi della bontà delle soluzioni che abbiamo appena trovato, qui sulla destra vi ho riportato il grafico della funzione y uguale valore assoluto di 2x meno 3, che come abbiamo imparato ha il classico aspetto a v, e il grafico della funzione y uguale x più 6, che come sappiamo è una retta non passante per l'origine. Ora, in termini grafici una funzione è maggiore di un'altra quando il grafico della prima sta sopra il grafico della seconda, e come vedete il grafico della funzione in valore assoluto sta al di sopra del grafico della retta, da qui in avanti, quindi per x maggiore di 9, e da qui indietro, cioè per x minore di meno 1. A volendo naturalmente uno avrebbe anche potuto graficarsi immediatamente la situazione, determinare le intersezioni tra i due grafici, che sono in x uguale a 9 e in x uguale a meno 1, e a questo punto, a partire dal disegno, era sufficiente verificare dove il grafico della funzione y uguale valore assoluto di 2x meno 3 sta sopra quello del grafico della funzione y uguale x più 6, e quindi capite, volendo, senza fare i due sistemi, si poteva arrivare alla medesima conclusione per via grafica. Vedremo un altro esempio di questo successivamente, prima però diamo un'occhiata ad una disequazione con valore assoluto, in cui all'interno del valore assoluto c'è una quantità di secondo grado. Supponiamo quindi che ci venga chiesto di dissolvere la disequazione valore assoluto di x quadrato meno 5 minore di 4. Come nell'esempio precedente, la prima cosa da fare è trasformare la disequazione con valore assoluto in una coppia di sistemi, e per fare questo dobbiamo distinguere due casi. Quando l'argomento del valore assoluto è una quantità maggiore uguale di 0, allora il valore assoluto non gli fa niente e la disequazione da risolvere diventa questa qui, cioè x quadro meno 5 minore di 4. Mentre invece se x quadro meno 5 è minore di 0, allora il valore assoluto di x quadro meno 5 diventa meno x quadro più 5 e quindi la disequazione da risolvere è questa qui, meno x quadro più 5 minore di 4. Se a questo punto risolviamo i due sistemi separatamente, da x quadro meno 5 maggiore uguale di 0 si conclude che x quadro deve essere maggiore uguale di 5 e questo accade quando x è minore uguale di meno radice di 5 oppure è maggiore uguale di radice di 5. Mentre da x quadro meno 5 è minore di 4 si conclude che x quadro deve essere minore di 9 e questo accade quando x è compreso, vedete, tra meno 3 e 3. Dunque la soluzione del sistema, che sarebbe per capirci la zona in cui queste due condizioni valgono contemporaneamente, è quella che vedete qui sotto e quindi vedete ci va bene la zona compresa tra meno 3 e meno radice di 5, col meno 3 escluso e il meno radice di 5 preso e poi ci va bene la zona tra radice di 5 e 3, con radice di 5 preso e 3 escluso. A parentesi, se qualcuno di voi avesse dei dubbi su come si dissolvono disequazioni di secondo grado come queste, in particolare facendo riferimento alla parabola, ricordo che ho realizzato un video su questo argomento in cui spiego tutto con calma e ve lo lascio linkato in descrizione qui sotto. Per quanto riguarda invece il secondo sistema, con passaggi analoghi a quelli di prima, si conclude che la soluzione è quella che vedete qui sotto e quindi ci va bene la zona compresa tra meno radice di 5 e meno 1, estremi esclusi, e quella compresa tra 1 e radice di 5, estremi esclusi. A questo punto per vincere non ci resta che fare l'unione delle soluzioni dei due sistemi e se lo facciamo si conclude facilmente che le zone che ci vanno bene sono quella tra meno 3 e meno 1, che si ottiene mettendo insieme queste due zone qui, e poi la zona tra 1 e 3, che si ottiene invece mettendo insieme la zona che va da 1 a radice di 5 con quella che va da radice di 5 a 3. E dunque la soluzione della nostra disequazione con valore assoluto è quella che vedete qui sotto. Come nell'esempio precedente, qui sulla destra vi ho graficato la situazione e come vedete il grafico della funzione y uguale valore assoluto di x quadrato meno 5, che sarebbe questo in azzurro, che si ottiene a partire da quello della parabola y uguale x quadro meno 5, ribaltando la parte che va al di sotto dell'asse x e facendone il simmetrico, se ricordate. Ecco, vedete, questo grafico sta al di sotto di quello della retta orizzontale y uguale a 4 proprio nelle due zone che abbiamo trovato prima, cioè quella compresa tra meno 3 e meno 1 e quella compresa tra 1 e 3. Per concludere, prima di salutarvi, volevo dare un'occhiata ad un esempio di disequazione con valore assoluto in cui ci sono però due valori assoluti. E supponiamo quindi che ci venga chiesto di risolvere la disequazione x per valore assoluto di x maggiore uguale di valore assoluto di x meno 2. Per risolvere una disequazione come questa, volendo, si può procedere in maniera simile a quello che abbiamo già visto nel caso delle equazioni con più di un valore assoluto, e cioè quello che uno può fare è, dopo aver studiato i segni degli argomenti dei valori assoluti, identificare le varie zone da analizzare, per ciascuna zona farsi il corrispondente sistema e alla fine fare l'unione dei vari sistemi, che sarebbero in questo caso 3 complessivamente. Si va prima però a procedere per via grafica, visto che gli argomenti dei valori assoluti sono delle quantità semplici e quindi non è difficile graficare questa funzione qui e questa funzione qui. Cerchiamo di capire come fare. Innanzitutto, notiamo che x per valore assoluto di x è uguale a x quadro se x è maggiore o uguale di 0, mentre è uguale a meno x quadro se x è minore di 0. E questo perché? Beh vedete, valore assoluto di x è uguale ad x se x è maggiore o uguale di 0, mentre è uguale a meno x se x è minore di 0. E quindi quando lo moltiplichiamo per la x davanti si ottiene nel primo caso x quadro e nel secondo meno x quadro. E quindi capite il grafico di questa funzione sarà uguale a quello della parabola y uguale x alla seconda per quanto riguarda la zona x maggiore o uguale di 0, mentre sarà uguale a quello della parabola y uguale meno x alla seconda per quanto riguarda la zona x minore di 0. Similmente il grafico della funzione y uguale valore assoluto di x meno 2 sarà uguale a quello della retta y uguale x meno 2 quando x è maggiore o uguale di 2, quindi in questa zona qui, mentre sarebbe uguale a quello della stessa retta ribaltato però rispetto all'asse delle x, e cioè a quello della retta y uguale meno x più 2, quando l'argomento del valore assoluto è negativo, cioè per x minore di 2. Appurato questo, risolvere questa disequazione in termini grafici significa andare a vedere dove il grafico di questa funzione è maggiore o uguale, cioè coincide oppure sta al di sopra del grafico di quest'altra funzione. E se diamo un'occhiata al disegno si vede che questo accade da questo punto qui in avanti. Per vincere non ci resta quindi che scoprire qual è l'ascissa di questo punto e per farlo naturalmente dobbiamo andare a vedere dove il grafico della funzione y uguale x quadro, che sarebbe questo qui, interseca il grafico di questa di funzione, che come abbiamo capito prima, è y uguale meno x più 2. Se quindi andiamo a vedere dove x quadro è uguale a meno x più 2, risolvendo la corrispondente equazione di secondo grado, e questo si può fare naturalmente con la solita formula risolutiva, si scopre che le due soluzioni sono 1 e meno 2 e quella che interessa a noi, come si vede dal disegno, è naturalmente x uguale ad 1. Dunque possiamo concludere che la soluzione della nostra disequazione con due valori assoluti è data dall'insieme delle x appartenenti ai reali, tali che x è maggiore uguale di 1. Per inciso, l'altra soluzione x uguale a meno 2 che abbiamo trovato nella nostra equazione di secondo grado sarebbe l'altro punto in cui la parabola y uguale x quadro intersecherebbe la retta y uguale meno x più 2. E naturalmente non è però quello che a noi interessa. Detto questo ragazzi io per il momento ho terminato, come sempre se trovate utili queste lezioni ricordatevi di mettere mi piace, passate a trovarmi su Facebook ed Instagram e date un'occhiata all'interno del canale dove troverete moltissimi altri video. Grazie. Grazie.